A bordo di un 747 diretto in Sudafrica scoppia un incendio. L'aereo viene invaso dal fumo ma non può atterrare. È nel bel mezzo dell'oceano indiano. Il primo pensiero per molti sudafricani è stato cosa stava trasportando. I fumi tossici stanno soffocando i passeggeri. Prego, confermate l'emergenza. Affermativo, è un'emergenza. C'è un solo modo per disperdere il fumo. L'equipaggio dovrà tentare una manovra rischiosa usata solo di rado. Aprite i portelloni. Aprire i portelloni in polo. Springbok 295. E' una corsa contro il tempo. L'aereo sta andando a fuoco. Deve atterrare prima di finire nelle acque dell'oceano. Springbok 295. E' una corsa contro il tempo. Made it, made it. Il 27 novembre 1987, un 747 delle South African Airways decolla da Taiwan per rientrare in Sudafrica. Tutto bene? Sì, capitano. Pronto a rientrare? Sì, grazie. Dopo nove ore di volo sull'oceano indiano, l'equipaggio principale torna ai propri posti, dando il cambio all'equipaggio di riserva. Come previsto, l'aereo sta per fare una sosta sull'isola di Mauritius. Valerie Lottering sta rientrando dalla sua prima vacanza all'estero. Ha raggiunto il marito che era in viaggio per affari. Mio padre era in viaggio per lavoro e mia madre l'aveva raggiunto per prendersi una vacanza. Papà era andato in Oriente per acquistare una nuova tecnologia per telefoni cellulari che all'epoca in Sudafrica iniziavano a diffondersi. Il velivolo è un 747 modificato. È un COMBI, abbreviazione di combinato. È al tempo stesso aereo da trasporto e passeggeri. È progettato per accogliere quantità flessibili di passeggeri e di carico. Come un normale Jumbo, il COMBI ha un vasto vano da carico nella parte bassa. Ma ne dispone di un secondo molto capace anche dietro l'ultima fila dei posti di classe economica. La cabina di pilotaggio è situata sul ponte superiore. Era possibile adattare le dimensioni del vano di carico del ponte principale. Perciò, a seconda del numero di passeggeri a bordo dell'aereo, si poteva caricare una quantità di pallet oscillante tra i 6 e i 12. A bordo del volo 295, ci sono 159 persone e un carico composto da 6 grandi pallet. Chiamato Helderberg, il 747 COMBI è un modello importante per la flotta della compagnia sudafricana. È particolarmente utile per i voli a lungo raggio. All'epoca dell'apartheid, un aereo come il COMBI era prezioso per la South African Airways perché alla compagnia era proibito sorvolare l'Africa ed erano costretti ad aggirarla. In segno di protesta contro il regime razzista dei bianchi, gran parte degli stati del continente negano l'accesso al loro spazio aereo ai velivoli della compagnia sudafricana, costringendoli a coprire rutte più lunghe. Contro il paese erano state imposte pesanti sanzioni politiche, economiche e culturali. Il Sudafrica non era bene accetto in nessun paese dotato di un minimo di credibilità internazionale. A meno di un'ora dalla prevista sosta su Mauritius, nella cabina di pilotaggio scatta l'allarme antifumo. Il problema è nel vano di carico del ponte principale, proprio dietro ai passeggeri. Quando l'equipaggio interviene, il fuoco è già divampato. È grave. Vi serve un'altra estintura? Sì, presto! La checklist per i casi di incendio. Nel caso di incendio a bordo, l'equipaggio segue una procedura standard per spegnere le fiamme. Sono scattati i salvavita. Controllo anche il quadro strumenti. Il fuoco sta bruciando i cavi dell'aereo, provocando dei cortocircui. Spostatevi più avanti che potete. Ma c'è un problema molto più immediato. I passeggeri fanno fatica a respirare. Interruttori delle condutture di areazione aperte. Interruttori delle valvole aperte. Interruttori ventilatori di ricircolo... Chiuse. La procedura d'emergenza prevede che il pilota atterri nell'aeroporto più vicino. Ma in questo caso è quello di Pleasance, su Mauritius, che dista ancora più di 300 chilometri. Non c'è molto che il capitano Ace possa fare. Chiede a un membro dell'equipaggio di dare una mano a combattere le fiamme. Un altro estintore. Il capitano Ace inizia una discesa di emergenza. Chiama l'aeroporto di Mauritius, uno stato che è in buoni rapporti con il Sudafrica. Quando il controllo aereo riceve la chiamata, stanno per scoccare le 4 del mattino. Mauritius, qui Springbok 295. Springbok 295, buongiorno, parlate. Buongiorno, abbiamo del fumo in cabina e stiamo effettuando una discesa di emergenza a livello 15140. Confermate intenzione di scendere a livello 140? Sì, abbiamo già iniziato, causa un problema di fumo in cabina. La vostra è una richiesta di emergenza, passo. Affermativo, questa è un'emergenza. Il capitano Ace sembra calmo, ma deve trovare il modo di liberare la cabina dal fumo. Qualunque cosa stia bruciando, sta producendo un fumo denso e tossico che ha invaso il ponte principale. Per i passeggeri potrebbe rivelarsi fatale. La vostra attuale posizione? Ah, ripetete. La vostra attuale posizione? Molti strumenti di bordo sono fuori uso. Abbiamo vari circuiti fuori uso. Adesso a bordo è tutto guasto. Ace non sa dove si trova. L'aeroporto si prepara per un atterraggio di emergenza, mentre l'equipaggio dell'Elderberg segue le istruzioni di una seconda checklist per disperdere il fumo. Ventilatore supplementare, spento. Interruttori ventilatore di circolo, accesi. Condizioni del fumo? Aspetta, do un'occhiata. Dalla cabina arrivano altre cattive notizie. Il fumo è sempre più denso. Peggiora. Qui sotto non si respira. Mentre l'aereo si avvicina a una quota di 4.500 metri, la checklist consiglia di eseguire una manovra di emergenza che pochi piloti hanno mai effettuato. Dobbiamo aprire i portelloni. Ripeto, aprire i portelloni. Il fumo potrebbe uccidere i passeggeri prima che l'aereo in difficoltà possa atterrare. L'unico modo per disperderlo è di aprire i portelloni in volo. Volo 1.50 Per poter aprire i portelloni, il capitano inizia la discesa di emergenza a 4.500 metri. A questa quota i passeggeri possono respirare l'aria esterna. Inoltre, la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno della cabina è sufficiente per spingere fuori l'aria rapidamente, ma senza rischi. Ora il capitano deve ridurre drasticamente la sua velocità, scendendo a 200 nodi, 370 chilometri orari. Altrimenti l'equipaggio non riuscirebbe ad aprire i portelloni. Vi parla il capitano Ace. Stiamo per aprire due dei portelloni per far uscire il fumo dalla cabina. Niente panico, una volta completata questa procedura starete molto meglio. È sufficiente far scattare il portellone per generare un enorme flusso d'aria attraverso l'aeroplano. Pleasance, qui Springbok 295. Abbiamo aperto i portelloni. Ok, qui tutto a posto. Guarda lì! Chiudi quella porta! Joe, fai fretta! Poi chiude il buco dal tuo lato. Ora il fumo sta entrando in cabina di pilotaggio, ma qui non si possono aprire porte. La temperatura è 22, 2,2 e il QNH è di 0118 hectopascal, 1 018, passo. Il controllore di volo cerca di dare al capitano le informazioni necessarie a un atterraggio di emergenza. Roger, 1 018. Affermativo. E avete a disposizione entrambe le piste, come preferite. 295, richiedo intenzioni del pilota. Chiediamo la pista 1 3. Confermatela 1 3. Roger, 1 3. Affermativo. Siete autorizzati a dirigervi sulla pista 1 3. Rapporto quando siete a 5 0. Bene. Il capitano Ace ha una sola speranza. Deve arrivare all'isola di Mauritius a distante 265 chilometri. L'Elderberg prosegue la sua corsa disperata. 295, qui Plaisance. Ma alle 4.08 del mattino, una chiamata del controllore di volo rimane senza risposta. Springbok 295, qui Plaisance. Springbok 295. Dopo non aver ricevuto notizie dal volo 295 per 36 minuti, il controllo del traffico aereo di Mauritius dichiara lo stato di emergenza. Per le squadre di ricerca e di salvataggio scatta l'allarme. Dall'isola si levano in volo parecchi aerei che sorvolano le acque in cerca del giambo scomparso, ma senza successo. Il pomeriggio seguente un velivolo di salvataggio individua i primi rottami che galleggiano sull'oceano. Il caso viene assegnato a Rennie Fanzail, capo del Dipartimento sudafricano per la sicurezza in volo. Di solito, nell'arco della sua carriera, un normale investigatore ha a che fare con un grosso incidente in media una volta ogni vent'anni. Quindi per noi, quella mattina, iniziare l'indagine su quel particolare caso rappresentava una sfida molto impegnativa. In acqua vengono recuperati otto corpi, tutti con segni del violento impatto. Quando siamo stati informati dell'avvistamento dei rottami e di una macchia d'olio, erano all'incirca le due. A quel punto era abbastanza chiaro che l'aereo era precipitato. Le autorità sudafricane si preoccupano subito di capire le cause dello schianto. Nei primi giorni i resti da esaminare sono pochissimi. Sono piccoli frammenti che galleggiano in superficie. All'interno dei resti, la squadra di Rennie Fanzail scopre tre orologi da polso. Forse permetteranno di stabilire l'ora dell'impatto. Questi orologi, in effetti, erano all'interno di alcuni bagagli. Quando li abbiamo esaminati, abbiamo scoperto che uno si era fermato e altri due funzionavano ancora. E i due funzionanti avevano ancora l'ora di Taiwan. Quello rotto indicava un minuto preciso, che abbiamo individuato come la probabile ora dell'impatto. Lo schianto sarebbe avvenuto appena tre minuti dopo l'ultima comunicazione con l'aereo. Il disastro sembra essere avvenuto in modo improvviso. La stampa e l'opinione pubblica si convincono che qualcosa di sinistro ha fatto precipitare l'aereo. In precedenza, gli uffici della Compagnia di Bandiera Sudafricana sono stati presi di mira da iniziative di protesta. In quel particolare periodo, la South African Airways era un'azienda di Stato. Era di proprietà del governo. Era la Compagnia di Bandiera. Ma era anche considerata l'espressione del governo sudafricano. Perciò, un'altra teoria che fu avanzata all'epoca era che a bordo di quell'aereo potesse essere stata piazzata una bomba. Si pensava che questo aereo della SAA fosse stato preso di mira da un gruppo terroristico deciso a colpire il nostro paese. Gli esperti esaminano i piccoli resti dei rottami recuperati in mare cercando i tipici segni che indicano un'esplosione, delle cavità provocate da un impatto o fori in superficie. Lo scoppio di un ordigno ad alto potenziale libera frammenti incandescenti che sono in grado di fondere le leghe leggere di cui è composta la fusoliera. Ma gli esperti non trovano tracce di un'esplosione. E dalle registrazioni del controllo del traffico aereo sembra che l'equipaggio stia tenendo l'emergenza sotto controllo. Pleasance, qui Springbok 295. Abbiamo aperto i portelloni. Ok, qui tutto a posto. Gli inquirenti sono sconcertati. Hanno solo piccoli frammenti da analizzare. Non sanno cosa ha provocato l'incendio né che ruolo abbia giocato nella distruzione dell'aereo. Per capire che cosa fosse realmente accaduto la cosa più ovvia era di provare a recuperare le scatole nere che registrano tutti i dati e inoltre il maggior numero possibile di rottami. Il problema è che Fansail non sa nemmeno dove cercare i resti affondati dell'aereo. Potrebbero essere molto distanti da quelli galleggianti. Nessuno conosce con esattezza il punto di impatto. L'investigatore chiede aiuto alle autorità statunitensi. Una società americana specializzata in recuperi viene incaricata di scovare la carcassa e le scatole nere ma il tempo stringe. Le scatole hanno dei dispositivi di localizzazione i cosiddetti pinger le cui batterie ben presto potrebbero esaurirsi. Quello che ci preoccupava è che le batterie del dispositivo trasmittente installato sulle scatole nere aveva un'autonomia garantita di appena 30 giorni ed era molto probabile che non riuscissimo a individuarlo in un periodo di tempo così limitato. Quando finalmente l'equipaggiamento necessario viene inviato nell'oceano indiano rimangono solo sette giorni prima che le batterie si esauriscano. Nel frattempo vengono effettuate le analisi del sangue dei corpi recuperati in mezzo ai rottami. Tutte mostrano tracce di fuligine nella trachea. I test dimostrano che almeno due dei passeggeri sono morti a causa dell'inalazione dei fumi. La scoperta ha dell'inquietante. Mentre l'equipaggio cerca di far atterrare l'aereo alcune delle persone a bordo sono già morte. Contemporaneamente alla ricerca delle scatole nere gli inquirenti continuano a esaminare i resti già recuperati. Tra le centinaia di oggetti ritrovati una racchetta in fibra di carbonio parzialmente fusa offre un indizio rivelatore. La fibra di carbonio brucia solo a temperature superiori ai 600 gradi Celsius. Ora gli investigatori sanno che l'incendio a bordo dell'Helderberg era di grande intensità. Questa scoperta potrebbe spiegare perché tra i resti galleggianti viene recuperato anche un estintore completamente carico. Gli inquirenti notano un pezzo di metallo fuso attaccato alla bombola dell'estintore e capiscono che il dispositivo proviene dalla cabina passeggeri. Questo sembra indicare che mentre divampano le fiamme un membro dell'equipaggio afferra la bombola e la porta nel vano di carico. Il fatto che in un aereo precipitato a causa di un incendio ci fosse un estintore ancora pieno dimostra che non è stato usato perché a causa del calore l'equipaggio non poteva accedere al vano di carico. E la presenza sulla bombola di un pezzo di metallo fuso è una prova ulteriore dell'intensità del fuoco. Prima di questo incidente nei vent'anni di servizio dei 747 combi nessuno è mai morto per soffocamento o per un incendio. Il disastro dell'Helderberg sudafricano era stato il primo caso di incendio scoppiato a bordo di un aereo a fusoliera larga. Era qualcosa di inaudito. Prima di allora erano tutti convinti che una cosa del genere non potesse accadere. Che cosa può aver causato un incendio così violento a bordo del Boeing? Si è trattato di un problema di cavi? Oppure è stato il carico che in qualche modo ha dato il via alle fiamme? All'inizio l'indagine si è concentrata sulle merci a bordo. Il fuoco si era sviluppato nel vano di carico del ponte principale. Quindi la cosa più logica da fare era di controllare le bolle di accompagnamento per capire cosa trasportasse l'aereo. Gli investigatori sanno che a bordo del volo 295 sono stipati sei pallet. Consultando le bolle di accompagnamento il team di Fansail scopre che a bordo del Jumbo ci sono 47.000 kg di bagagli e merci. Gli inquirenti scoprono che prima del decollo un funzionario della dogana taiwanese ha effettuato un'ispezione di parte del carico e non ha trovato niente di sospetto. Ora più che mai è necessario recuperare il resto dell'aereo e individuare le due scatole nere. Ma 30 giorni dopo l'impatto l'isquadra di Fansail riceve notizie pessime. Non è stato ancora captato nessun segnale dai due localizzatori e non si conosce ancora la posizione della maggior parte dei rottami. Fino ad ora le ricerche sono costate un milione e mezzo di dollari e il team non è riuscito a trovare prove definitive. L'incidente dell'Elderberg sta mettendo a dura prova le capacità e la tenacia di Fansail. L'indagine raggiunge un punto morto. L'investigatore non è riuscito a scoprire le cause dell'incendio né a localizzare il grosso dei rottami. Proseguire nelle ricerche significa spendere altri milioni e intanto le probabilità di successo diventano sempre più remote. Questo non era un aereo come gli altri. Era un Boeing 747 il più grande del suo genere e apparteneva alla compagnia di bandiera sudafricana. Le centinaia di migliaia di passeggeri che volavano ogni giorno a bordo di un Jumbo pretendevano una risposta soddisfacente che indicasse se quel particolare modello fosse sicuro oppure avesse dei difetti strutturali o di progettazione. Quindi la posta in gioco era molto alta. In quanto capo dell'inchiesta sudafricana le responsabilità di Fansail erano enormi. Nel frattempo la carcassa dell'Elderberg resta sepolta sotto le onde dell'oceano indiano. Ora sta un solo uomo Rennie Fansail decidere se investire altro denaro nel recupero dei rottami dell'aereo. Ma a quasi due mesi di distanza dal tragico schianto del 747 nessuno ancora conosce con esattezza la posizione della carcassa. Fansail decide di provare a recuperare il recuperabile. Senza i rottami non sapremmo mai la verità. Per una sola inchiesta spesero l'equivalente di quanto negli Stati Uniti impieghiamo in sei mesi per tutte le nostre indagini. Ma prima di poter recuperare l'Elderberg bisogna individuarlo. Il relitto giace da qualche parte nelle profondità dell'oceano. 61 giorni dopo lo schianto dell'aereo sudafricano Fansail riceve dalla sua squadra notizie interessanti. Un sofisticato sistema di sonar ha localizzato un grande oggetto a 4400 metri di profondità adagiato su un altopiano sottomarino. Potrebbe trattarsi dell'Elderberg. Mi consegnarono un foglio con parecchi punti neri di varie dimensioni dicendomi ecco il tuo relitto. La mia domanda fu come faccio a sapere che è la carcassa del 747 forse è un sommergibile della seconda guerra mondiale e loro mi risposero tranquillo Renni ti assicuriamo che questo è il relitto che stai cercando. Ma nessuno si è mai avventurato a tali profondità per un recupero nemmeno nel caso del Titanic. Fansail non ha scelta. Per scoprire se le immagini del sonar sono proprio quelle del relitto deve avviare la parte più costosa della sua indagine l'operazione Resolve. Un sommergibile radiocomandato chiamato Gemini sarà inviato sul fondale marino per filmare il relitto. Se si tratta dell'Elderberg il Gemini cercherà gli oggetti più importanti tra cui le scatole nere. Il problema è che il mini sommergibile deve essere collegato alla nave madre da un cavo flessibile a fibra ottica lungo quasi 7 chilometri. Non era mai stato costruito uno così lungo prima d'ora. Ci serviva un cavo lungo 6 mila metri e non ne esistevano ancora quindi ci siamo dovuti rivolgere a un'azienda specializzata che ce lo fabbricasse. Prima che il cavo a fibra ottica sia costruito Fonseil avvia una seconda indagine sui dispositivi antincendio dell'Elderberg. L'investigatore scoprirà che forse proprio il design del velivolo è la causa del disastro. Gli inquirenti vogliono capire se il combi è stato progettato in modo da proteggere dal fuoco i passeggeri del volo 295 della South African Airways. Il fumo non doveva entrare in cabina. Il capo della squadra investigativa americana Barry Strauch si reca a Seattle nella sede centrale della Boeing. Intende scoprire se il combi è stato testato per la certificazione antincendio. Il team di Strauch viene a sapere che per adeguarsi alle leggi federali in materia la Boeing ha effettuato dei test appiccando il fuoco a una balla di foglie di tabacco. Quando un tecnico entra nel vano di carico per spegnere le fiamme dimostrative il fumo non penetra nella cabina passeggeri l'incendio non divampa e viene subito domato. Le condizioni in cui erano stati effettuati i test della Boeing per ottenere la certificazione antincendio non erano le stesse a bordo del combi sudafricano in questo caso non c'era un bel fuocherello con l'impianto di ventilazione che spingeva il fumo verso il soffitto c'erano dei pallet e prima che si generasse il fumo le fiamme si erano propagate rapidamente inoltre la plastica assieme al carbone e agli imballaggi all'interno del pallet alimentavano l'incendio il combi è progettato per impedire al fumo di penetrare nella cabina passeggeri quell'aria viene tenuta a una pressione lievemente superiore rispetto a quella nel vano quando la porta tra i due comparti è aperta l'aria dovrebbe penetrare dalla cabina mantenendo al sicuro i passeggeri gli inquirenti effettuano i loro test danno alle fiamme un grosso pallet pieno zeppo di merce simulando le condizioni a bordo del combi l'incendio è più intenso e la temperatura più elevata i test evidenziano che la differenza di temperatura influisce in modo radicale sulla circolazione dell'aria adesso infatti quando la porta si apre il fumo invade la cabina passeggeri in seguito gli inquirenti scoprono qualcosa di potenzialmente ancora più letale mentre il vano passeggeri si riempie di fumo le procedure di emergenza indicano ai piloti di attivare i ventilatori di ricircolo della cabina l'intenzione è di disperdere il fumo nella cabina passeggeri dopo che l'incendio è stato domato ventilatore di ricircolo acceso ma in questo caso attivare i ventilatori potrebbe essersi rivelato fatale i ventilatori aspirano aria dal soffitto della cabina e dal compartimento di carico prima di farla ricircolare rinviandola ai passeggeri i livelli di monossido di carbonio erano estremamente elevati con una concentrazione letale ricordiamo che uno dei corpi recuperati si trovava seduto proprio nell'area al di sotto dell'apertura del ventilatore di ricircolo qui c'era il livello più alto parliamo più o meno del 66% di monossido a quei livelli sopravvivere era impossibile seguendo la procedura standard l'equipaggio può aver immesso gas tossico nella cabina passeggeri ed è possibile che gran parte dei passeggeri fossero morti asfissiati prima dell'impatto nessuna checklist per un 747 combi può avere previsto i problemi simultanei a bordo dell'Elderberg vale a dire l'incendio del carico e il fumo in cabina la checklist per la dispersione del fumo è stata elaborata partendo dal presupposto che il fuoco sia stato spento in questo caso scendere a 4500 metri e aprire i portelloni sarebbe la cosa più giusta da fare farebbe uscire il fumo dalla cabina permettendo ai passeggeri di respirare aria pulita se però l'incendio non è stato domato il violento flusso d'aria incrementando i livelli di ossigeno contribuisce ad alimentare le fiamme e secondo noi è proprio quello che è accaduto il fuoco non è mai stato spento anzi i tentativi dell'equipaggio di migliorare la situazione potrebbero averla peggiorata gli inquirenti iniziano a rendersi conto che spegnere un incendio nel vano di carico del combi è molto più difficile di quanto si fosse pensato finora è probabile che quando uno di questi pallet ha preso fuoco nel momento in cui l'equipaggio è stato allertato era già troppo tardi per intervenire e la cabina è stata indossa dal fumo ma ancora Fonseil non sa cosa abbia causato un incendio così violento che cosa lo ha provocato e in che modo ha causato l'incidente le risposte giacciono ancora nelle profondità dell'oceano ci vogliono mesi per costruire un cavo a fibra ottica abbastanza lungo che consenta al Gemini di raggiungere il fondale marino e per modificare il sommergibile per questa missione abbiamo preso un sommergibile radiocomandato a distanza progettato per operare a 2000 metri di distanza e dovevamo modificarlo per impiegarlo con 6000 metri di cavo per adattare il sommergibile alla terribile pressione di quelle profondità la squadra di Roy Truman deve rafforzarne le pareti e modificare le telecamere il 23 settembre 1988 il Gemini inizia il suo viaggio da record esitavamo perché non avevamo la certezza che avrebbe funzionato non abbiamo nemmeno avuto il tempo di fare dei test su questi macchinari nuovi di Zeg il cavo consente ai tecnici in superficie di manovrare il Gemini fino a 4400 metri da questa notevole profondità riesce a trasmettere anche segnali video è la prima volta che delle video immagini vengono registrate nell'oceano indiano a questa profondità i biologi marini sono affascinati dalla scoperta di specie uniche alcune delle cose che abbiamo visto sui fondali erano davvero da mozzare il fiato poi a un anno esatto di distanza dalla sua scomparsa l'Elderberg viene ritrovato da una profondità di 4400 metri il sommergibile invia immagini di quella che può essere solo la carcassa del volo 295 della South African Airways i bagagli erano sparsi su tutto il fondale e poi c'erano strutture enormi le ali la coda grosse parti della cabina squarciate ed era possibile osservare il telaio le condotte idrauliche i cavi elettrici insomma era incredibile riuscire ad osservare tutti i componenti di quella macchina sparsi in un'area di 12 chilometri quadrati era impressionante la scommessa di Fonseil per quanto costosa sta cominciando a pagare per la sua squadra la discesa verso la carcassa dell'Elderberg si rivela un trionfo ma trovare i rottami non è ancora sufficiente a un anno di distanza dall'incidente Fonseil spera ancora nell'improbabile il recupero del registratore di suoni uno degli obiettivi più importanti che ci prefiggevamo con l'operazione Resolve era il recupero del registro di suoni il CVR volevamo sapere se gli assistenti di volo avevano informato il capitano di un'esplosione a bordo o di qualsiasi altro evento sul retro dell'apparecchio il sommergibile effetto a centinaia di ore di registrazioni è un lavoro estenuante immaginate di trovarvi su un campo di calcio nel cuore della notte state cercando l'orecchino smarrito da uno dei giocatori durante la partita con una torcia che illumina solo un metro quadro di terreno alla volta ecco la nostra ricerca sui fondali somigliava a qualcosa del genere poi un mattino alle nove qualcosa attira lo sguardo di uno dei tecnici torna indietro di un secondo ho visto qualcosa finalmente viene ritrovata la scatola nera ecco eccola è proprio lì l'abbiamo trovata è laggiù è stato un momento di grande soddisfazione finalmente eravamo riusciti a trovare quello che stavamo cercando da tempo il Gemini impiega cinque ore buone per recuperare la scatola nera dal fondale marino i media sudafricani danno grande rilievo alla notizia del ritrovamento nel 1989 nel paese vige ancora l'apartheid il regime governa con pugno di ferro Fanzeil prende una decisione inusuale porta la scatola nera ancora sigillata negli Stati Uniti e la apre laggiù se avessi fatto altrimenti sarei stato accusato di un insabbiamento o di aver trascurato qualche elemento invece gli uomini degli enti di controllo sudafricano e americano hanno ascoltato il nastro insieme nello stesso momento nella stanza c'è molta tensione il registratore di voci dovrebbe aver impresso gli ultimi 30 minuti di volo con l'equipaggio alle prese con l'incendio ma il nastro si rivela una delusione dopo un anno sul fondo dell'oceano è difficile distinguere qualunque cosa sedere in quella sala nella sede dell'organo di controllo americano è stato il peggior momento della mia vita per tutto il tempo sul nastro non è emerso nessun problema a bordo continuavo a fissare l'orologio dopo 25 minuti di ascolto stavo per diventare davvero molto molto ansioso per 28 minuti il nastro non evidenzia niente di insolito poi tutto cambia il minuto dopo naturalmente si sente scattare l'allarme finalmente disponevamo di alcuni minuti di registrazione utili prima che il nastro si fermasse di solito la scatola nera registra i momenti finali di un volo non questa volta invece gli investigatori riescono ad ascoltare gli istanti iniziali dell'incidente prima che la registrazione si interrompa non è ciò che Fonseil sperava tuttavia si ricavano preziose informazioni sull'incendio la checklist in caso di incendio 14 secondi dopo che l'allarme è scattato i salvavita dell'aereo iniziano a scattare sono scattati i salvavita eh? controllo anche il quadro strumenti si secondo le stime degli inquirenti fino a 80 circuiti vengono disabilitati i cavi che collegano la scatola nera vengono distrutti soltanto 81 secondi dopo che il primo allarme antincendio è scattato Fonseil non ha ottenuto la prova determinante che cercava ma il fuoco si rivela ancora più violento di quanto si fosse pensato la registrazione lascia molte domande senza risposta ma permette a Fonseil di avanzare un'ipotesi personale sulle cause del disastro aereo in cabina di pilotaggio sono successe molte cose riteniamo che a quel punto probabilmente sul quadro comandi siano scattati almeno 80 salvavita la perdita di tutti questi circuiti elettrici deve aver reso estremamente difficile non soltanto il controllo di una parte del velivolo ma ha anche compromesso la possibilità di una discesa graduale in acqua dubito che l'aereo a quel punto fosse manovrabile quando mi sono immaginato ai comandi di quell'aereo ho pensato che sarei stato terrorizzato a quel punto dovevano essere disperati avranno seguito la procedura nel modo corretto non lo sapremo mai ma gli inquirenti non sanno ancora cosa ha provocato l'incendio a bordo del 747 il mistero può essere risolto soltanto recuperando parti dell'aereo precipitato ci siamo resi conto che a quel punto se volevamo saperne di più dovevamo recuperare dal fondale marino il maggior numero possibile di frammenti del velivolo Fonseil concentra la ricerca su alcuni pezzi chiave del vano di carico i frammenti vengono portati in un hangar e riassemblati come in un gigantesco puzzle l'obiettivo è di ricostruire la sezione del vano di carico in cui con ogni probabilità è iniziato l'incendio la squadra investigativa scopre che il pavimento dell'area di carico non è stato toccato dalle fiamme quindi a quel punto sapevamo che il fuoco era bruciato ad almeno un metro dalla superficie dell'area al contrario le fiamme hanno gravemente danneggiato le pareti e il soffitto vanseille fa una scoperta fondamentale l'incendio è scoppiato nel pallet situato nella parte anteriore destra quindi si trattava di un incendio localizzato in un punto ben preciso in gran parte il pallet in questione è pieno di computer protetti da imballaggi in polistirolo gli inquirenti sospettano che il fuoco all'interno del pallet venga in contatto con l'imballaggio in polistirolo producendo gas che si accumulano in prossimità del soffitto quando i gas si riscaldano a sufficienza provocano una violenta fiammata che allarga l'incendio al resto del carico quando il fumo penetra le lastre di polietilene il fuoco doveva essere molto molto caldo dunque il materiale di imballaggio ha contribuito a far divampare l'incendio ma vanseille non sa ancora cosa lo ha fatto scoppiare dopo milioni di dollari investiti e più di un anno e mezzo di lavoro deve concludere l'indagine avrei sentito molto meglio se avessi potuto trovarmi nella condizione di fornire più prove concrete da sottoporre al baglio dell'organismo di controllo ma non è stato possibile e non ce le potevamo certo inventare ma l'interesse nel caso dell'Elderberg non si spegne sulla possibile causa dell'incendio iniziano a circolare voci inquietanti avevamo a che fare con un regime pro-apartheid molto repressivo in quel periodo particolare per molti sudafricani il primo pensiero è stato cosa c'era a bordo di quell'aereo c'era qualcosa che potrebbe aver causato un incendio di quelle proporzioni non capita tutti i giorni che gli aerei bruciano in volo per poi schiantarsi in quel modo poi un chimico del governo di Pretoria fa una scoperta sconcertante che porta all'elaborazione di una nuova teoria una microscopica particella di ferro sulla rete di nylon accanto al pallet ha un profilo unico le tracce indicano che il ferro allo stato di fusione ha viaggiato a una velocità molto elevata la scoperta forse significa che l'incendio potrebbe non essere stato provocato da una scintilla alimentata dagli imballaggi era un incendio di tipo molto diverso parliamo di un fuoco alimentato dal proprio ossigeno un po' come un fuoco d'artificio che ha il proprio carburante e l'ossigeno ecco a nostro avviso quello che ha provocato l'incendio è stato qualcosa di simile ad un fuoco d'artificio un esperto inglese in incendie ed esplosioni esamina la parete esterna della fusoliera al di sopra del pallet e rivela una nuova prova che contribuisce ad alimentare questa nuova teoria la parete esterna ha raggiunto una temperatura pari ad almeno 300 gradi centigradi è difficile che il calore penetri la lamiera di un aereo in volo a causa dell'effetto di raffreddamento provocato dal flusso d'aria all'esterno il dottor David Klazov è uno dei numerosi esperti che mette in dubbio la versione ufficiale ciò significa che abbiamo a che fare con sostanze che di solito non dovrebbero essere trasportate a bordo di un aereo tanto meno di un aereo passeggeri in altre parole non può essersi trattato di normale materiale di imballaggio come legno cartone plastica non si trasportano sostanze di quella natura vale a dire che dispongono del proprio ossigeno e che possono provocare un violento incendio per tutta una serie di motivi prima di tutto perché sono instabili e anche perché contro questi composti i normali dispositivi antincendio sono inefficaci cosa potrebbe aver scatenato l'incendio le uniche merci pericolose registrate a bordo sono batterie di computer alcuni ritengono che il 747 trasportasse un carico non registrato in quegli anni il Sudafrica è in guerra contro l'Angola ma deve fare i conti con un embargo internazionale sugli armamenti il Sudafrica non aveva la capacità di fare tutto da solo e ci sono stati momenti in cui ha dovuto acquistare armi all'estero la compagnia di bandiera veniva considerata come un surrogato di una compagnia di trasporti e il governo sudafricano poteva usarla per far arrivare nel paese delle sostanze proibite in gran segreto sotto copertura senza troppe domande per Pretoria non era semplice inviare aerei militari in altri paesi e caricare materiale bellico di contrabbando perché non dimentichiamolo all'epoca vigeva ancora l'embargo sugli armamenti in media alimentano il sospetto che il governo stia usando aerei di linea per importare armi in gran segreto l'Armscore è l'impresa responsabile di rifornire di munizioni le forze armate sudafricane all'epoca c'era la necessità di produrre un miglior sistema missilistico un sistema più efficiente che permettesse di contrastare gli attacchi aerei dall'angola e per quel tipo di dispositivo impiegato a quello scopo usano un particolare propellente il cui componente principale è il percolorato di ammonio e ritengo che fosse questo il carico a bordo dell'Eldelberg ma non è certo il tipo di composto ideale da trasportare a bordo di un aereo perché è molto instabile ed ogni tipo di vibrazione o di movimento brusco possono provocarne l'autocombustione l'indagine ufficiale sull'incidente non arriva alla conclusione che l'Eldelberg stesse trasportando armi illegalmente ma le voci non si placano e a più di dieci anni di distanza dal disastro si fanno così insistenti da costringere il governo sudafricano a riaprire il caso l'incidente dell'Eldelberg evidenzia che nell'eventualità di un incendio a bordo il 747 combi è vulnerabile la South African Airways smette immediatamente di impiegare questa versione le autorità americane non stanno a guardare l'organismo di controllo la FA adottò una nuova regolamentazione ma i limiti sul peso e le nuove misure imposte per motivi di sicurezza resero il 747 combi non più conveniente dal punto di vista economico e così dopo il disastro non fu più utilizzato alle 159 vittime della tragedia sono state dedicate commemorazioni e monumenti ma questo non placa la sete di giustizia delle famiglie ho bisogno di sapere perché sono diventata orfana a 14 anni e forse mi sto aggrappando a delle semplici illazioni ma ci sono molte prove che indicano che in quel volo c'era qualcosa che non andava e che quell'aereo trasportava qualcosa di illegale dieci anni dopo il disastro dell'Elderberg il nuovo governo sudafricano nomina una commissione che tra le altre cose riesamini anche l'incidente la commissione per la verità e la riconciliazione fu incaricata di far luce sulle atrocità dell'apartheid indagò anche sul ruolo della compagnia di bandiera nella violazione delle sanzioni internazionali e cercò di stabilire se quello del 747 fosse stato solo uno sfortunato incidente nel 1998 le conclusioni della commissione per la verità e la riconciliazione fanno molto discutere a suo giudizio nel carico non era registrato nulla che potesse provocare l'incendio inoltre sottolineò che c'era qualcosa di insolito in quello che era accaduto all'Elderberg la commissione mise in evidenza le contraddizioni della versione ufficiale degli eventi che era stata data al governo di allora se nessuna delle merci elencate nell'inventario ha provocato l'incendio che cosa lo ha causato e come è arrivato a bordo la realtà purtroppo è che qualcuno dovrà farsi avanti dicendo sì sono stato io oppure siamo stati noi i responsabili del disastro se a quel punto si può dimostrare che non si stanno inventando nulla allora avremo l'unica possibilità di sapere che cosa è davvero accaduto e qual è stata davvero la causa che ha dato il via alle fiamme a bordo dell'aereo nel suo rapporto finale la commissione si raccomanda affinché la magistratura continui ad indagare sull'incidente ma questo non è mai accaduto il governo guidato dall'Africa National Congress non ha mai riaperto il caso è lecito chiedersi perché e credo che la risposta sia nel fatto che l'indagine avrebbe gravi ripercussioni economiche non vogliono riaprire il caso perché la compagnia aerea rischierebbe un tracollo finanziario Rennie Fonseil dedica molti anni della sua vita alla risoluzione del mistero alla fine non riuscirà a individuare la causa dell'incendio a bordo tuttavia considera positivi i risultati dell'indagine ritengo che come squadra abbiamo fatto il meglio che potevamo in condizioni e circostanze difficilissime quello che abbiamo fatto non era mai stato fatto prima è stato qualcosa di pionieristico è frustrante che non siamo riusciti a stabilire la causa dell'incendio e probabilmente non la scopriremo mai credo che ci siano delle persone che sanno perfettamente quello che è accaduto a quell'aereo probabilmente all'epoca avranno pensato che il paese era in guerra e che stavano facendo soltanto il proprio dovere ma dovrebbero anche avere pietà delle famiglie delle vittime e raccontare tutto ciò che sanno segui le incredibili avventure di uomini e donne sopravvissuti a fatti inspiegabili con Duri a morire tra poco sul Nesson Angela Vicciana a bordo di un 747 diretto in Sudafrica scoppia un incendio l'aereo viene invaso dal fumo ma non può atterrare è nel bel mezzo dell'oceano indiano il primo pensiero per molti sudafricani è stato cosa stava trasportando i fumi tossici stanno soffocando i passeggeri prego confermate l'emergenza affermativo è un'emergenza c'è un solo modo per disperdere il fumo l'equipaggio dovrà tentare una manovra rischiosa usata solo di rado aprite i portelloni aprire i portelloni in polo springbok 295 qui play sense è una corsa contro il tempo l'aereo sta andando a fuoco deve atterrare prima di finire nelle acque dell'oceano springbok 295 qui play sense il 27 novembre 1987 un 747 delle south african airways decolla da taiwan per rientrare in sud africa tutto bene si capitano pronto a rientrare si grazie dopo nove ore di volo sull'oceano indiano l'equipaggio principale torna ai propri posti dando il cambio all'equipaggio di riserva come previsto l'aereo sta per fare una sosta sull'isola di Mauritius Valerie Lottering sta rientrando dalla sua prima vacanza all'estero ha raggiunto il marito che era in viaggio per affari mio padre era in viaggio per lavoro e mia madre l'aveva raggiunto per prendersi una vacanza papà era andato in oriente per acquistare una nuova tecnologia per telefoni cellulari che all'epoca in Sudafrica iniziavano a diffondersi il velivolo è un 747 modificato è un combi abbreviazione di combinato è al tempo stesso aereo da trasporto e passeggeri è progettato per accogliere quantità flessibili di passeggeri e di carico come un normale jumbo il combi ha un vasto vano da carico nella parte bassa ma ne dispone di un secondo molto capace anche dietro l'ultima fila dei posti di classe economica la cabina di pilotaggio è situata sul ponte superiore era possibile adattare le dimensioni del vano di carico del ponte principale perciò a seconda del numero di passeggeri a bordo dell'aereo si poteva caricare una quantità di pallet oscillante tra i 6 e i 12 a bordo del volo 295 ci sono 159 persone un carico composto da 6 grandi pallet chiamato helderberg il 747 combi è un modello importante per la flotta della compagnia sudafricana è particolarmente utile per i voli a lungo raggio all'epoca dell'apartheid un aereo come il combi era prezioso per la South African Airways perché alla compagnia era proibito sorvolare l'Africa ed erano costretti ad aggirarla in segno di protesta contro il regime razzista dei bianchi gran parte degli stati del continente negano l'accesso al loro spazio aereo ai velivoli della compagnia sudafricana costringendoli a coprire rotte più lunghe contro il paese erano state imposte pesanti sanzioni politiche economiche e culturali il Sud Africa non era bene accetto in nessun paese dotato di un minimo di credibilità internazionale a meno di un'ora dalla prevista sosta su Mauritius nella cabina di pilotaggio scatta l'allarme antifumo il problema è nel vano di carico del ponte principale proprio dietro ai passeggeri quando l'equipaggio interviene il fuoco è già divampato è grave vi serve un altro estintore? sì presto la checklist per i casi di incendio nel caso di incendio a bordo l'equipaggio segue una procedura standard per spegnere le fiamme sono scattati i salvavita controllo anche il quadro strumenti il fuoco sta bruciando i cavi dell'aereo provocando dei cortocircuiti spostatevi più avanti che potete ma c'è un problema molto più immediato i passeggeri fanno fatica a respirare interruttori delle condutture di areazione aperte interruttori delle valvole aperte interruttori ventilatori di ricircolo chiuse la procedura d'emergenza prevede che il pilota atterri nell'aeroporto più vicino ma in questo caso è quello di Pleasance su Mauritius che dista ancora più di 300 chilometri non c'è molto che il capitano Isse possa fare chiede a un membro dell'equipaggio di dare una mano a combattere le fiamme un altro estintore il capitano Isse inizia una discesa di emergenza chiama l'aeroporto di Mauritius uno stato che è in buoni rapporti con il Sudafrica quando il controllo aereo riceve la chiamata stanno per scoccare le 4 del mattino Mauritius qui Springbok 295 Springbok 295 buongiorno parlate buongiorno abbiamo del fumo in cabina e stiamo effettuando una discesa di emergenza a livello 15140 confermate intenzione di scendere a livello 140 si abbiamo già iniziato causa un problema di fumo in cabina la vostra è una richiesta di emergenza a passo affermativo questa è un'emergenza il capitano Isse sembra calmo ma deve trovare il modo di liberare la cabina dal fumo qualunque cosa stia bruciando sta producendo un fumo denso e tossico che ha invaso il ponte principale per i passeggeri potrebbe rivelarsi fatale la vostra attuale posizione ripetete la vostra attuale posizione molti strumenti di bordo sono fuori uso abbiamo vari circuiti fuori uso adesso a bordo è tutto guasto e Isse non sa dove si trova l'aeroporto si prepara per un atterraggio di emergenza mentre l'equipaggio dell'Elderberg segue le istruzioni di una seconda checklist per disperdere il fumo ventilatore supplementare aspetto interruttori ventilatore di circolo accesi condizioni del fumo aspetta do un'occhiata dalla cabina arrivano altre cattive notizie il fumo è sempre più denso peggiora qui sotto non si respira mentre l'aereo si avvicina a una quota di 4500 metri la checklist consiglia di eseguire una manovra di emergenza che pochi piloti hanno mai effettuato dobbiamo aprire i portelloni ripeto aprire i portelloni il fumo potrebbe uccidere i passeggeri prima che l'aereo in difficoltà possa atterrare l'unico modo per disperderlo è di aprire i portelloni in volo volo 150 per poter aprire i portelloni il capitano inizia la discesa di emergenza a 4500 metri a questa quota i passeggeri possono respirare l'aria esterna inoltre la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno della cabina è sufficiente per spingere fuori l'aria rapidamente ma senza rischi ora il capitano deve ridurre drasticamente la sua velocità scendendo a 200 nodi 370 km orari altrimenti l'equipaggio non riuscirebbe ad aprire i portelloni vi parla il capitano Hayes stiamo per aprire due dei portelloni per far uscire il fumo dalla cabina niente panico una volta completata questa procedura starete molto meglio è sufficiente far scattare il portellone per generare un enorme flusso d'aria attraverso l'aeroplano Flesas qui Springbok 295 abbiamo aperto i portelloni ok qui tutto a posto guarda lì chiudi quella porta a bordo di un 747 diretto in Sudafrica scoppia un incendio l'aereo viene invaso dal fumo ma non può atterrare è nel bel mezzo dell'oceano indiano il primo pensiero per molti sudafricani è stato cosa stava trasportando i fumi tossici stanno soffocando i passeggeri prego confermate l'emergenza affermativo è un'emergenza c'è un solo modo per disperdere il fumo l'equipaggio dovrà tentare una manovra rischiosa usata solo di rado aprite i portelloni aprire i portelloni in polo springbok 295 qui plaisance è una corsa contro il tempo l'aereo sta andando a fuoco deve atterrare prima di finire nelle acque dell'oceano springbok 295 qui plaisance il 27 novembre 1987 un 747 delle South African Airways decolla da Taiwan per rientrare in Sudafrica tutto bene? si capitano pronto a rientrare? si grazie dopo nove ore di volo sull'oceano indiano l'equipaggio principale torna ai propri posti dando il cambio all'equipaggio di riserva come previsto l'aereo sta per fare una sosta sull'isola di Mauritius Valerie Lottering sta rientrando dalla sua prima vacanza all'estero ha raggiunto il marito che era in viaggio per affari mio padre era in viaggio per lavoro e mia madre l'aveva raggiunto per prendersi una vacanza papà era andato in oriente per acquistare una nuova tecnologia per telefoni cellulari che all'epoca in Sudafrica iniziavano a diffondersi il velivolo è un 747 modificato è un combi abbreviazione di combinato è al tempo stesso aereo da trasporto e passeggeri è progettato per accogliere quantità flessibili di passeggeri e di carico come un normale jumbo il combi ha un vasto vano da carico nella parte bassa ma ne dispone di un secondo molto capace anche dietro l'ultima fila dei posti di classe economica la cabina di pilotaggio è situata sul ponte superiore era possibile adattare le dimensioni del vano di carico del ponte principale perciò a seconda del numero di passeggeri a bordo dell'aereo si poteva caricare una quantità di pallet oscillante tra i 6 e i 12 a bordo del volo 295 ci sono 159 persone e un carico composto da 6 grandi pallet chiamato Helderberg il 747 combi è un modello importante per la flotta della compagnia sudafricana è particolarmente utile per i voli a lungo raggio all'epoca dell'apartheid un aereo come il combi era prezioso per la South African Airways perché alla compagnia era proibito sorvolare l'Africa ed erano costretti ad aggirarla in segno di protesta contro il regime razzista dei bianchi gran parte degli stati del continente negano l'accesso al loro spazio aereo ai velivoli della compagnia sudafricana costringendoli a coprire rotte più lunghe contro il paese erano state imposte pesanti sanzioni politiche economiche e culturali il Sud Africa non era bene accetto in nessun paese dotato di un minimo di credibilità internazionale a meno di un'ora dalla prevista sosta su Mauritius nella cabina di pilotaggio scatta l'allarme antifumo il problema è nel vano di carico del ponte principale proprio dietro ai passeggeri quando l'equipaggio interviene il fuoco è già divampato è grave vi serve un'altra estintura? si presto la checklist per i casi di incendio nel caso di incendio a bordo l'equipaggio segue una procedura standard per spegnere le fiamme sono scattati i salvavita controllo anche il quadro strumenti il fuoco sta bruciando i cavi dell'aereo provocando dei cortocircui spostatevi più avanti che potete ma c'è un problema molto più immediato i passeggeri fanno fatica a respirare interruttori delle condutture di areazione aperte interruttori delle valvole aperte interruttori ventilatori di ricircolo chiuse la procedura d'emergenza prevede che il pilota atterri nell'aeroporto più vicino ma in questo caso è quello di Pleisance su Mauritius che dista ancora più di 300 chilometri non c'è molto che il capitano e se possa fare chiede a un membro dell'equipaggio di dare una mano a combattere le fiamme l'equipaggio non riuscirebbe ad aprire i portelloni vi parla il capitano Hayes stiamo per aprire due dei portelloni per far uscire il fumo dalla cabina niente panico una volta completata questa procedura starete molto meglio è sufficiente far scattare il portellone per generare un enorme flusso d'aria attraverso l'aeroplano Plesas qui Springbok 295 abbiamo aperto i portelloni ok qui tutto a posto guarda lì chiudi quella porta Joe fai fretta poi chiudi il buco dal tuo lato ora il fumo sta entrando in cabina di pilotaggio ma qui non si possono aprire porte la temperatura è 22 2 e 2 e il QNH è di 0118 ectopascal 1018 passo il controllore di volo cerca di dare al capitano le informazioni necessarie a un atterraggio di emergenza Roger 1018 affermativo e avete a disposizione entrambe le piste come preferite 295 richiedo intenzioni del pilota chiediamo la pista 1-3 confermata la 1-3 Roger 1-3 affermativo siete autorizzati a dirigervi sulla pista 1-3 rapporto quando siete a 5-0 bene il capitano Ace ha una sola speranza deve arrivare all'isola di Mauritius distante 265 km l'Elderberg prosegue la sua corsa disperata 295 qui Plaisance ma alle 4.08 del mattino una chiamata del controllore di volo rimane senza risposta Springbok 295 qui Plaisance Springbok 295 dopo non aver ricevuto notizie dal volo 295 per 36 minuti il controllo del traffico aereo di Mauritius dichiara lo stato di emergenza per le squadre di ricerca e di salvataggio scatta l'allarme dall'isola si levano in volo parecchi aerei che sorvolano le acque in cerca del giambo scomparso ma senza successo il pomeriggio seguente un velivolo di salvataggio individua i primi rottami che galleggiano sull'oceano il caso viene assegnato a Rennie Fanzeil capo del dipartimento sudafricano per la sicurezza in volo di solito nell'arco della sua carriera un normale investigatore ha a che fare con un grosso incidente in media una volta ogni vent'anni quindi per noi quella mattina iniziare l'indagine su quel particolare caso rappresentava una sfida molto impegnativa in acqua vengono recuperati otto corpi tutti consegni del violento impatto quando siamo stati informati dell'avvistamento dei rottami e di una macchia d'olio erano all'incirca le due a quel punto era abbastanza chiaro che l'aereo era precipitato le autorità sudafricane si preoccupano subito di capire le cause dello schianto nei primi giorni i resti da esaminare sono pochissimi sono piccoli frammenti che galleggiano in superficie all'interno dei resti la squadra di Rennie Fanzeil scopre tre orologi da polso forse permetteranno di stabilire l'ora dell'impatto questi orologi in effetti erano all'interno di alcuni bagagli quando li abbiamo esaminati abbiamo scoperto che uno si era fermato e altri due funzionavano ancora e i due funzionanti avevano ancora l'ora di Taiwan quello rotto indicava un minuto preciso che abbiamo individuato come la probabile ora dell'impatto lo schianto sarebbe avvenuto appena tre minuti dopo l'ultima comunicazione con l'aereo il disastro sembra essere avvenuto in modo improvviso la stampa e l'opinione pubblica si convincono che qualcosa di sinistro ha fatto precipitare l'aereo in precedenza gli uffici della compagnia di bandiera sudafricana sono stati presi di mira da iniziative di protesta in quel particolare periodo la Stato African Airways era un'azienda di stato era di proprietà del governo era la compagnia di bandiera ma era anche considerata l'espressione del governo sudafricano perciò un'altra teoria che fu avanzata all'epoca era che a bordo di quell'aereo potesse essere stata piazzata una bomba si pensava che questo aereo della SAA fosse stato preso di mira da un gruppo terroristico deciso a colpire il nostro paese gli esperti esaminano i piccoli resti dei rottami recuperati in mare cercando i tipici segni che indicano un'esplosione delle cavità provocate da un impatto o fori in superficie lo scoppio di un ordigno ad alto potenziale libera frammenti incandescenti che sono in grado di fondere le leghe leggere di cui è composta la fusoliera ma gli esperti non trovano tracce di un'esplosione e dalle registrazioni del controllo del traffico aereo sembra che l'equipaggio stia tenendo l'emergenza sotto controllo Plesas qui Springbok 295 abbiamo aperto i portelloni ok qui tutto a posto un altro estintore il capitano Ace inizia una discesa di emergenza chiama l'aeroporto di Mauritius uno stato che è in buoni rapporti con il Sudafrica quando il controllo aereo riceve la chiamata stanno per scoccare le 4 del mattino Mauritius qui Springbok 295 Springbok 295 buongiorno parlate buongiorno abbiamo del fumo in cabina e stiamo effettuando una discesa di emergenza a livello 15140 confermate intenzione di scendere a livello 140 si abbiamo già iniziato causa un problema di fumo in cabina la vostra è una richiesta di emergenza a passo affermativo questa è un'emergenza il capitano Ace sembra calmo ma deve trovare il modo di liberare la cabina dal fumo qualunque cosa stia bruciando sta producendo un fumo denso e tossico che ha invaso il ponte principale per i passeggeri potrebbe rivelarsi fatale la vostra attuale posizione ripetete la vostra attuale posizione molti strumenti di bordo sono fuori uso abbiamo vari circuiti fuori uso adesso a bordo è tutto guasto Ace non sa dove si trova l'aeroporto si prepara per un atterraggio di emergenza mentre l'equipaggio dell'Elderberg segue le istruzioni di una seconda checklist per disperdere il fumo ventilatore supplementare aspetto interruttori ventilatore di circolo accesi condizioni del fumo aspetta do un'occhiata dalla cabina arrivano altre cattive notizie il fumo è sempre più denso peggiora qui sotto non si respira mentre l'aereo si avvicina a una quota di 4500 metri la checklist consiglia di eseguire una manovra di emergenza che pochi piloti hanno mai effettuato dobbiamo aprire i portelloni ripeto aprire i portelloni il fumo potrebbe uccidere i passeggeri prima che l'aereo in difficoltà possa atterrare l'unico modo per disperderlo è di aprire i portelloni in volo volo 150 per poter aprire i portelloni il capitano inizia la discesa di emergenza a 4500 metri a questa quota i passeggeri possono respirare l'aria esterna inoltre la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno della cabina è sufficiente per spingere fuori l'aria rapidamente ma senza rischi ora il capitano deve ridurre drasticamente la sua velocità scendendo a 200 nodi 370 km orari altrimenti grazie a tutti Grazie.